falsa manovra che cos'è la falsa manovra? ogni tanto può capitare di aprire e chiudere oppure mettere anche in funzione di ribalta in maniera errata la maniglia, che cosa succede? apre e cosa succede? aprendo fa anche la ribalta non preoccupatevi non succede nulla, la finestra non cade non distruggerete nulla e non vi ucciderà, non preoccupatevi che cosa succede? per risolverlo che cosa si fa? vedete questa molla? questa molla serve per la funzione della maniglia io che cosa faccio? applico in giù la manovella metto in ribalta la tiro su, vedete che è già in sesto e poi la apro vedete che adesso l'anta funziona perfettamente non prendete paura che la falsa manovra è solo una questione di utilizzare questa molla e riassestare la maniglia spingendo ve lo rifaccio vedere falsa manovra io premo la molla tiro in su vedete che che è andata ad assestarsi una volta che mi sono assicurato che sia assestata non cadrà mai non preoccupatevi non cadrà mai si è assestata metto la lanta ecco apro chiudo ribalta ed è perfettamente corretta e non cadrà mai la manovra non cadrà mai l'antica non cadrà mai